Oggi abbiamo paura degli impegni perché siamo immaturi. Tutto subito e tutto finisce subito. Non abbiamo la capacità di assumersi una responsabilità per tutta la vita. Anche i frati hanno paura, anche i nostri frati hanno paura di un'affidarsi a Dio per tutta la vita. E allora viviamo di pezzettini, un anno, sei mesi. Anche i giovani oggi molte volte hanno paura. Le convivenze in fondo sono questa paura di lanciarsi in un'avventura che richiede fede e richiede un progetto di vita. Allora l'immediato, facciamo subito e finisce anche subito molte volte. Allora loro ci dicono che il matrimonio, il sacramento è possibile. Con l'aiuto di Dio, con la grazia di Dio, nulla è impossibile. Allora la loro testimonianza è per noi oggi un invito a ringraziare il Signore, ma anche a rivedere un po' la nostra vita in quello in cui magari noi siamo un po' mancanti. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie. Grazie.